Ecco la famiglia di paperi più incredibile di Disney Channel! Vi presentiamo... Un'avventura non va pianificata, si fa e basta! Allora, di che cosa mi occupo? L'amerotanti? No! Cannoni sonici? No! Missili a energia densa che penetrano le squomme di un cracker? Faccio presente che questa trappola non l'ho attivata io! Con il suo coraggio e la sua intraprendenza, vivrà avventure mozzafiato insieme a tutta la famiglia! DuckTales, domani alle 19.45 su Disney Channel! Grazie a tutti!